Ciao ragazzi e bentornati Io tutta questa ansia francamente non la capisco Si è fatto male Taremi Ed è il caos Vedete serve una punta il più possibile Vi svelo un segreto Il problema della punta l'avevamo anche prima dell'infortunio di Taremi Perché a parte quei tre lì Lautaro Martinez, Duram e lo stesso Taremi Gli altri due vivono in una situazione particolare Arnautovic non sappiamo se resta o meno Lui vuole restare Legittimamente Ha un contratto È in un top club E non si sente di andare in Turchia o da altre parti Legittimo Poi Arnautovic se a me Dovessero chiedere se Lo terresti per fare il quinto O il quarto Lo terrei volentieri Non c'è nessun tipo di problema Anche perché Non è la pippa tavica Che tutti vogliono far credere Arnautovic l'anno scorso Ha avuto dei problemi fisici importanti Non è mai stato al 100% Se dovesse restare Spero col cuore Che Possa essere in forma il più possibile E che ci possa dare una mano Anche se L'anno scorso Non avrei preso uno Come Morata Prima Al posto di Arnautovic È stato un errore Per quel che mi riguarda Ma vabbè Poi l'abbiamo vinto lo scudetto Però Quest'anno ragazzi Non è che possiamo contare Sull'autare Turam Ad oltranza E sperare alla madonna Che non si facciano male Perché l'anno scorso Ti è andata bene Correa Correa è Con le valigie in mano Lo sappiamo Non si sa se lo cederemo O comunque Anche lì ci sarà una rescissione Ma di base L'attaccante L'Inter Lo farà Ma lo sa da giugno Che lo deve fare un attaccante Con determinate caratteristiche Perché non è la questione Di prendere l'attaccante È di prendere un attaccante Di un certo livello Con determinate caratteristiche Ai prezzi giusti Gudmundson È l'uomo Disegnato Per prendere Questo posto qui Io poi su Gudmundson Ho un'opinione Nulla contro il giocatore Che per me è forte È bravo E può giocare in più ruoli Ma questa spada Damocle Del processo È una cosa Che devi prendere in considerazione Io non lo prenderei Per questo motivo qua Poi Di base Se tu vuoi affrontare Una stagione di questo tipo 5 punte le devi avere Poi ci sono ragazzi Ragioni economiche O altro Ma fosse per me Io affronterei Questo campionato La Champions League Il mondiale per club Tutte queste competizioni Con almeno 5 attaccanti L'Inter Vuole fare il gioco Delle coppie Forse un quinto Lo prenderà Per le liste O altro Tant'è che Se tu vuoi Andare avanti In tutte le competizioni Il più a lungo possibile 5 attaccanti Li devi fare Quindi Per me L'attacco ideale Sarebbe Lautaro Turam Taremi Uno tra Gud Non sono Chiesa Perché Chiesa Nessuno me lo toglie Dalla testa Che è un nome caldo Per l'Inter È una mia sensazione Sarò strano io Vabbè Fate voi Comunque Uno tra questi due E Arnautovic Come quinto attaccante Poi chiaramente Ripeto Dobbiamo calcolare I costi o altro Io non sono qui A fare il commercialista Dico solo La mia opinione Quindi il punto qual è È che Taremi Si è infortunato E forse Salterà Una partita E anche se E anche se Dovessimo andare a Genova Con Arnautovic E Correa in panchina Vi fa così schifo? È una situazione provvisoria Il problema Sarebbe se Tu dovessi affrontare Tutto il campionato E tutta la stagione Con Arnautovic E Correa Ma c'è una cosa positiva Il mercato è ancora aperto E vedremo quello che succederà Aspettiamo fino al 31 di agosto Per parlare Con questo Non voglio dire Che va tutto bene Però Come dico sempre Tre quarti del mercato Lo hai fatto Lo hai fatto E a livello numerico Sei a posto Quindi Gudmundson arriverà O chi che sia Arriverà Sì Ma Il problema dell'attaccante Non è che deve Adesso sorgerà la testa di tutti C'era già da prima I nostri dirigenti Ci stanno lavorando Assolutamente sì Poi L'obiettivo adesso È fare quel gruzzoletto Che ci permetterà poi Di andare Secondo me Sulla punta Poi Io ho una mia opinione E Anche lì l'ho già detta L'Inter per me Farà il difensore Perché tutti si scordano Anche del difensore Acerbi ed Evrai Non sono eterni E manca Un braccetto di sinistra L'Inter Sta cercando Un difensore Mancino Anche E secondo me Vorrà fare due piccioni Con una fava Prendere un giocatore Che possa fare Il braccetto di sinistra Sostituire bastoni In certe partite E che in futuro Farà anche Il ruolo di Acerbi Quindi non c'è solo L'attaccante A cui pensare Taremi Se è fatto male E a Genova Andremo con Lautaro Turam Arrautovic E Correa Chiaro Il Genova È una squadra tosta E a Marassi Abbiamo sofferto Le pene dell'inferno L'anno scorso Però Basteranno Per poter portare A casa i tre punti Oppure no E anche se dovessimo perdere Ma la prima giornata Di campionato Ci segnerà Tutta la stagione Io credo di no Quindi In attacco Numericamente Ripeto Numericamente Siamo a posto così E vi dirò di più Alla prima giornata Secondo me Non giocherà Lautaro Martinez Ma giocherà Arnautovic Con Turam E Arnautovic Per quanto Io lo abbia definito Un becca morto Ma non perché sia scarso Ma perché oggettivamente Non l'hai mai avuto E quando l'hai avuto Non era al 100% Magari Può non piacere Ma se guardiamo Se guardiamo le prestazioni Io ho visto francamente Fare a Correa Molto peggio Arnautovic è uno Che almeno si sbatte Si impegna È uno che Qualcosina Te la dà E se le cose Dovessero andare male Subentrerà Lautaro Martinez Che rientrerà L'8 di agosto E Un applauso Comunque a Turam E Pavar Che sono rientrati Due giorni prima Gran bel segnale Questo Gran bel segnale Al gruppo Per quel che mi riguarda Oggi c'è l'amichevole Con il Pisa E fidatevi Secondo me Stiamo andando In escandescenza In ansia per niente Aspettiamo la fine Del mercato Non dico che È tutto a posto Ti manca quel giocatore là E l'Inter Lo deve prendere Sono il primo a dirlo Però Arrivare a dire Oddio Qua andare in ansia O altro Io non lo trovo giusto L'Inter deve prendere Un difensore E un attaccante Un attaccante Con determinate caratteristiche Che sia Gudmundson Chiesa Mimico Co L'Inter deve prendere Quel giocatore là Anche per dare una certa Variazione Rispetto all'anno scorso L'Inter è la squadra Che ha fatto meno dribbling In Serie A Ha vinto il campionato Sì Lo ha dominato Sì Ma siamo stati anche la squadra Che ha fatto meno dribbling Di tutti E un giocatore Con quelle caratteristiche Serve Poi Io penso che in teoria Turam può fare anche Quel lavoro lì E col cuore Mister Non siamo un po' Siamo un po' meno Anche lì Integralisti Diamo anche un po' di libertà A Turam A Lautaro Agli altri giocatori Quando si può Ovviamente Si fa tutto di squadra Ma se c'è la possibilità Di andare in uno contro uno Con Turam O con una Carlos Augusto Anche lì L'ho visto con la Spalmas Andare se no Due tre volte In dribbling Perché no Perché no Perché adesso Gli avversari ci conoscono Sanno come affrontarci Qualche cosa Si dovrà cambiare Tutto qua Poi Goodmanson Può fare anche Diversi ruoli Per questo L'Inter lo vuole Perché è anche molto duttile Può fare il trequartista Può fare anche Il ruolo di Mkhitaryan Può fare la seconda punta La prima punta È un giocatore Che all'Inter Serve come il pane Perché Magari non è un fenomeno Però sa fare tutto Raga Calma Tranquillità Vediamo stasera Come va la partita E Aspettiamo Più di questo Non possiamo fare È giusto Anche lì Muovere delle critiche Serve un attaccante Con quelle caratteristiche Però ragazzi Calma Serenità Perché Il mercato Chiude tra 30 giorni Non sarà semplice Piazzare Correa E tutti gli altri Vedremo cosa si farà Con Arnautovic Ma io sono convinto Che l'Inter Il suo lo farà Detto questo ragazzi Fatemi sapere la vostra Nei commenti Sempre forza Inter E seguite la pagina Per altri contenuti Grazie a tutti